L'idea è nata un po' anche per come sono fatto io, che mi piacciono le cose molto belle, e in più anche per dare un servizio diverso sia per i clienti e anche per gli operai che lavorano qui da noi e credo di esserci riuscito. Abbiamo il Pagodille, si chiama Pagodille e abbiamo deciso di dare questo servizio proprio per aiutare le persone in caso di incidente stradale con torto per dilazionare l'importo a tasso zero e quindi aiutarli nel pagamento del danno. La scelta è stata azzeccata perché i clienti hanno apprezzato questo nostro servizio. Allora l'ultimo investimento sarà quello di aprire un piccolo lavaggio sia per le macchine dei nostri clienti quindi come servizio interno e anche come servizio esterno su appuntamento. quindi sarà una, diciamo, la ciliegina sulla torta per chiudere a 360 gradi i servizi della carrozzeria. Chiaramente dando sempre un servizio top come del resto tutti gli altri servizi che sono presenti qui da noi. a Grazie a tutti.